Parigi a reti bianche tra Nova Fete e Bacchia Cesenatico, padroni di casa che superano l'occasione di poter agguantare nuovamente la testa della classifica e solitudine, mentre un punto prezioso per i Bacchia verso la lotta a salvezza. Sul neutro di Talamelo, causa indisponibilità dell'impianto di Nova Fete e della contemporanea assenza di illuminazione in Quadisecchiano, le due squadre giocano una partita a viso aperto e molto maschia. La prima occasione arriva al minuto 7, quando dall'angolo Baldinini raccoglie la sfera in aria, ma gira sul fondo. Aspiti che replicano sempre dalla bandierina con questo colpo di testa centrale di Cialotti seguono 15 minuti di studio prima di vedere la punizione di Angelini, spegnersi sopra la traversa della porta difesa da Semplini. Rosso-Bru ancora avanti, questo lancio a cercare sulla destra Mazzuoli e la cui conclusione termina alle stelle. L'occasione più limpida di prima frazione capita la nuova Feltia. Farabigoli da calcio piazzato pesca la testa di Raffaelli, mira indirizzata sul secondo palo, ma Russo ci mette una pezza, providenziale. Su finire di tempo si accendono gli animi. Mazzuoli, servito da Cialotti, non riesce a frenare la propria corsa. Con una ginocchiata colpisce in uscita la nuca di Semplini, che rimane a terra. Attimi di paura per l'estremo Giallo-Bru, prontamente soccorso, esercizi per la riflessa, classico gesto per vedere se è tutto ok a livello di riflessi, pollice alto rivolto ai compagni e ripresa in difesa della propria porta. Ma la fase di colpi proibiti continua quando Gori cerca di frenare Angelini. Il giocatore rosso-bru in fase di smarcamento colpisce con una gomitata in numero 2 Giallo-Bru, che rimane a terra. L'azione prosegue con Angelini, chiuso il fallo laterale e circondato dai giocatori di casa con l'intervento finale ad opera del direttore di gara, che riporta la quiete in tutto. Squadra negli spogliatori sullo 0-0. Con la luna che ci accompagna, passiamo alle immagini della ripresa. Da calcio piazzato a Rinaldi, intravede il movimento di Baldinini, palla indirizzata sulla testa, ma Domeniconi anticipa l'attaccante Giallo-Bru sul più bello. Ma il numero 10 ha voglia di bucare la porta avversaria, anche per dedicare la prima firma alla figlia nata appena due giorni prima. Amantini recupera l'ennesimo palo del match e serve in diagonale l'attaccante, che da posizione proibitiva c'entra il palo, a russo battuto. Saltano i nervi e a pagarne le spese è l'attaccante del Bacchia Agostinelli, il reo di aver protestato e aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara, così viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco. A questo punto il Bacchia tende a Gordi più a proteggersi. Fabi scombina le carte, getta nella misca una squadra a trazione offensiva, lanciando in campo i juniores, 8 adi, Sartini, mantenendo Arapi in fase di spinta e avvalendosi poi nell'ultimo sprazzo di match del trequartista Fraboni. Farabegoli e Amantini dimostrano davvero a questo punto mille polmoni. La squadra vuole fortemente la vittoria, Angelini apre una parentesi su punizione ma da qui in poi monologo giallo-blu. Gori lancia 8 adi, l'attaccante in velocità, sua arma migliore, risulta devastante, si accentra una volta in tattinaria, botta sicuro al salvataggio con la punta della scarpa in corner ad opera di Domeniconi, con il pallone che centra, il palo esterno. Un minuto dopo Amantini serve Raffaelli, buono lo stop, meno in fatto di precisione, pallone a lato. Amantini ancora sugli scudi, traversone venenosa sul quale Baldinini manca la zampata vincente. Sulla parte destra, Amantini, serva l'indietro Farabegoli, traversone per Raffaelli che di testa sfiora la marcatura. Dopo 8 minuti di recupero, le speranze di Nuova Fetea si spengono con la punizione di Fraboni deviati in corner. Un pareggio che fa felice Bacchia ma che sotto la luna piena evidenza ancora di più la luce emessa dal gioco sviluppato dai ragazzi di Fabri, ai quali è mancato solo il gol.